Grazie, Sergio. Prego, piano. Questo testo così. Alle 14.30 di un giorno estivo al precedente cambio, come una domatina stanca con il mio bastoncino, piano piano sono andata all'appuntamento con la commissione medica regale della ASIL per l'annuale rinnovo della patente speciale. File, sosta in piedi davanti a oscuri uffici per la consegna di documentazione, chiudono fatiche per mancanza di informatizzazione, poi finalmente guadagno a passare attesa. Dopo la grotta di Lourdes era il luogo della terra a più alta concertazione di immagini che ognuno diverso a seconda del mezzo di pomozio, bastoni, stampelle, sedi a rotelle, ma tutti uguali davanti al caldo terribile che legnava in quella stanza. Mentre un signore mutilato a un braccio si faceva aria al viso con l'unica mano a disposizione e un ragazzo si protendeva verso una finestra aperta in cerca di un reforo d'aria, hanno chiamato il mio numero e sono entrato nella stanza della commissione saninatrice. Il vento tirava tutta un'altra aria. Aria condizionata. Grazie.